Il giorno e la storia. Oggi è l'11 dicembre. 1994. Yeltsin invia 40.000 soldati nella Repubblica Cecena per impedirne la secessione. 1991. Accordi di Maastricht. 1909. Guglielmo Marconi, insignito del premio Nobel per la fisica. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della stampa. Oggi ho deciso di parlare della dichiarazione di guerra agli Stati Uniti da parte d'Italia e Germania nel 1941. Grazie.